carterità regolarmente anche la terza batteria noi ne approfittiamo per comunicare il nome delle sedici atleti che hanno seguito i tempi più bassi i migliori tempi nelle prove preliminari non 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 partita con regolarità anche questa prova siamo alla batteria 2 partita stanno contendosi per il progetto di questa gara le prime posizioni si consentono ripetiamo ancora la settore 6 final della gara già avvolgendo il termine anche questa prova siamo agli ultimi istanti di questa gara gli ultimi metri prima del traguardo finale la loro arrivo sul traguardo conclusivo e la relativa conclusione proprio in questo istante perché il riguardo c'è l'intervento grazie a tutti